ciao a tutti ragazzi qua seizer gaming ed eccoci tornati con un nuovo video purtroppo per mancanza di tempo siamo ancora qui su mac brevissimo video vi faccio vedere un'applicazione davvero molto utile tra le device sempre delle device si chiama instashare eccola qui molto simile a dropbox solo che questa è veramente molto più veloce basta scaricarla vi metto il link in descrizione dal sito ufficiale per il vostro mac e poi scaricare dall'app store del vostro iphone o ipod touch dall'app store applicazione gratuita e un'altra scaricata basta aprirla dall'ephone e tenere premuto su una foto aspettate tenere premuta la foto e trascinarla sul vostro mac vi comparirà l'avviso di trasferimento cliccate invio e come vedete la foto la scarica davvero più velocemente anche questa qua mi usava una foto modificata sì san pietro da la terrazza di casa mia e possiamo fare un altro esempio vediamo un'altra foto non modificata quanto ci mette aspettate aspettate eccolo qui facciamo invio come vedete se non è modificata la foto si mette davvero pochissimo eeeh ad a a trasferirla sul vostro computer ovviamente vuole trasferire anche video quindi dei filmati eeeh quindi davvero un'ottima applicazione alternativa migliora dropbox quindi ve la consiglio vivamente ovviamente che è gratuita eeeh scusate ragazzi per questo bellissimo video ma eeeh mi prometto il prossimo video sarà su fifa sarà un bel video più che altro sarà un video completo e durerà abbastanza eeeh anche perché penso di inserire una nuova serie eeeh niente ragazzi spero che il video vi sia comunque piaciuto eeeh questo brevissimo video un saluto qua Cesar Gaming e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti